Grazie Presidente. Grazie a tutti. 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 dal popolo per soddisfare e proteggere gli interessi generali della comunità nazionale e primi tra tutti i diritti garantiti dalla Costituzione. Le mafie sono i primi nemici della Costituzione, della libertà dei singoli e dello sviluppo del nostro Paese. Non c'è sviluppo nelle terre di mafia. Per questo il meridione d'Italia ha arretrato la retratezza del Sud e conseguenza delle presenze mafiose mai sconfitte. Sarà necessario con la situenda Commissione, conformemente ai contenuti della legge che stiamo votando, accertare le trasformazioni del fenomeno mafioso, verificare la congruità della legislazione antimafia in relazione alle più recenti evoluzioni delle mafie, mafie silenti, mafie mercatiste, comitati criminali affaristici, sistemi criminali e massomafia. E l'attuale efficacia della normativa, anche di fronte al mutato scenario di infiltrazione mafiosa nell'economia legale, occorre indagare sul rapporto tra mafia e politica, come su quello tra mafia, istituzioni e amministrazioni pubbliche, verificare la risposta giudiziaria alle presenze mafiose nei vari territori e laddove risulti nulla o timida, indagare sulle cause, indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni, sulla congruità della vigente normativa riguardante i pagamenti elettronici e l'uso delle valute virtuali in quanto canali privilegiati alla rete criminale. A volte normative utili per l'assenza di controlli possono risultare regali alle mafie, come avvenuto con la legge di bilancio a proposito della regolarizzazione delle valute e attività virtuali, senza prevedere una verifica sulla giustificazione della provenienza. Qui, pagando una minima percentuale allo Stato, vengono immesse nel circuito finanziario legale valute virtuali di cui si ignora l'origine. Per immettere profitti illeciti nel circuito legale, le mafie sono disposte a perdere anche il 30 e il 40 per cento del valore. Con lo Stato hanno concluso un affare, rimettendoci quasi nulla. E poi il rapporto tra mafia e informazione, il condizionamento e l'intimidazione mafiosa dei giornalisti. Tanti sono i giornalisti sotto scorta. E' questo un altro tema da affrontare. Le mafie si combattono parlando di mafia e soprattutto battendo l'omertà, che è un pilastro dell'associazione mafiosa. Tanti sono i compiti della Commissione parlamentare antimafia e per questo la Commissione dovrà avere una costante interlocuzione con la Camera ed il Senato e riferire frequentemente sulle acquisizioni conoscitive da condividere con l'intero Parlamento, evitando protagonismi mediatici. Ma soprattutto la Commissione parlamentare non sarà una Commissione di professori e studenti. Sarà invece una Commissione che vorrà trovare le leggi nuove per rafforzare il contrasto realmente alle mafie. Le nostre leggi antimafia si evolvono troppo lentamente. Sia chiaro però che ad ogni passo è necessario guardare attentamente per evitare che si risolva in un ulteriore ostacolo ai processi. Siamo fermi da anni. Progetti di legge penale e processuale non guardano mai al contrasto alle mafie. Mentre le forze di polizia invecchiono e si riducono, l'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati non decolla. Non certo per colpa di loro che vi lavorano. Occorre una nuova legge come quella del 1982 e del decennio successivo. Ma non ci sono più queste leggi e invece dobbiamo sforzarci affinché ci siano. L'ultima notazione, Presidente, la dignità alla quale ha fatto riferimento anche il nostro Presidente della Repubblica nel suo discorso di insediamento, laddove dice nel declinare i vari contenuti la dignità. Dignità è un Paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, libero dalla complicità di chi fa finta di non vedere. E, Presidente, non dobbiamo essere noi a far finta di non vedere. Noi dobbiamo essere i primi a guardare oltre la lettera della legge e capire se quella legge può essere sfruttata dai mafiosi. Perché oggi, purtroppo, i mafiosi sono quelli che si muovono in giacca e cravatta, sono laureati e si evolvono nell'ambito della nostra società. Grazie, Presidente. Grazie a lei.